Civica Trentina ha presentato una mozione a firma di Claudio Civettini che chiede al Presidente Ugo Rossi se intenda o meno regolamentare a livello provinciale la circolazione su strada delle carrozzine elettriche dei disabili, così da sanare una situazione che è causa di molti disagi proprio a causa del vuoto normativo sulla materia. Chiede inoltre se il Presidente della provincia intenda valutare la possibile realizzazione delle proposte portate avanti su questi temi ad arco e se ritenga possibile e condivisibile la volontà politica di attivarsi a livello nazionale affinché la regolamentazione che si vorrà dare alla provincia di Trento in materia di mobilità riservata alle persone disabili su carrozzine diventi oggetto di recepimento normativo nel codice della strada anche a livello nazionale. Il problema, lo ricordiamo, riguarda la definizione del tipo di veicolo che viene usato dai cittadini diversamente abili perché tali protesi a ruote sono considerati ausili medici e non veicoli veri e propri. In altri stati i mezzi risultano addirittura provvisti di targa e conseguentemente soggetti a regole ben precise che regolamentano il loro utilizzo. La provincia di Trento non può fare supplenza al codice della strada ma ha il potere di regolamentare i loro transiti sulle piste ciclabili e l'utilizzo dei marciapiedi rispondendo alle richieste dei diversamente abili che vivono in mattino. Sono molte le battaglie che varie realtà associative di disabili portano avanti ogni giorno per mostrare a tutti le immense difficoltà in cui si imbattono percorrendo un qualsiasi tratto stradale ed il loro dissenso verso la scarsa considerazione che la legislazione riserva a loro.